Un caffè a casa di amici, poi la ghiacciante scoperta di un omicidio, mesi di paure e silenzi e infine la scelta di denunciare i carabinieri. Si è aperta in corte d'assise, a Pavia, la fase istruttoria del processo per l'omicidio di Ibrahim Mohamed Mansour, avvenuto in un capannone a Cassolnovo nel gennaio di un anno fa. Un delitto di cui una coppia di coniugi, sentita come test dell'accusa, era già al corrente la sera dell'11 gennaio 2023, ovvero quando, secondo quanto ricostruito dalle indagini, Ibrahim sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e fucile. Secondo quanto affermato dai testimoni in aula, quella sera Massimo Rondinelli, già condannato in primo grado a 19 anni con l'abbreviato, si sarebbe recato a casa di amici tra le nove e mezza e le dieci di sera. Agitato e poco lucido, avrebbe confessato in lacrime di aver sparato a Ibrahim e di essere stato in compagnia del Papa Antonio e del fratello Claudio, entrambi imputati per il delitto consumatosi in ambito familiare. Dopo circa mezz'ora, secondo quanto riferito in aula, Massimo avrebbe ricevuto quindi la chiamata di Luigi D'Alessandro, compagno di Elisa Rondinelli, una delle due sorelle. D'Alessandro, imputato per occultamento di cadavere, avrebbe mostrato ai due coniugi un secchio in cui probabilmente erano presenti proiettili utilizzati per sparare a Ibrahim. Uno dei due avrebbe quindi detto a Massimo di allontanarsi. I coniugi hanno affermato di non averlo più rivisto dopo l'accaduto. I coniugi testimoni, sconvolti dalla vicenda, dopo mesi di tentennamenti, hanno quindi scelto di denunciare l'accaduto ai carabinieri nel luglio di un anno fa. Smentite minacce e pressioni da parte della famiglia Rondinelli, nel corso dell'udienza in corte d'assise, sono stati ascoltati altri testimoni, tra cui le ex fidanzate di Ibrahim, a cui avrebbe confessato la sua intenzione di tornare in Egitto con la figlia Sara, avuta in precedenza da Daniela, la figlia minore dei Rondinelli. Proprio l'affidamento della figlia e il continuo bisogno di denaro, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati i motivi della rottura dei rapporti con i Rondinelli, con cui ci sarebbero state diverse liti, l'ultima, la sera prima, del delitto.